Sì, ma no, è su un stop. No, è in play adesso. Sono in play. Allora, intanto benvenuto a Romagna Way. Grazie. Allora, tu ovviamente non sei romagnolo, no? Assolutamente. Perché hai scelto di venire a vivere in Romagna? Perché sapevo di fare questa intervista a Romagna Way, adottato. No, dai, fai serio, Gianni, non so che per te è un po' complicato, però... Cioè, perché ti piace la Romagna? Cos'è che ti piace di più della Romagna? La Romagna è accogliente, è una terra stupenda. Le romagnoli come siamo? Accoglamento stupendo. Il tuo piatto preferito in Romagna, sei più da cappelletta ragù, tagliatelle o strozzapreti? Penso proprio di strozzapreti. Come? Cosa diresti a un tuo amico che non è mai venuto in Romagna? Vieni a Romagna perché la Romagna si travolge, si coinvolge, si rapisce. La cosa che ti piace di più in assoluto fare in Romagna? Girare i po' di Romagna. Fission preferita dalla Romagna qual è? Salerno. Il castello è meraviglioso. Da discoteca o da balera? La domanda da 4 milioni e mezzo di dollari, ma sicuramente... Se ti dovessi chiedere di descrivere i romagnoli con tre aggettivi, cosa diresti? I romagnoli con tre aggettivi delicati, assolutamente coinvolgenti e solari. La parola che ti piace di più è il romagnolo. Qual è una parola romagnola che hai imparato? La giusta. La parola che ti viene in mente? Sì. Ci propri? Sei disburato. Se ti dicessi la romagna, eh? La romagna è allegria. Faresti mai uscire un tuo amico o una tua amica con un romagnolo o una romagnola? Sicuramente sì. Un abbraccio e un saluto a tutti. Venite presto, vi aspettiamo tutti in Romagna. Grazie.